Il progetto reti di impresa della Camera di Commercio di Fermo, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria Gestionale e la CNA, si è concluso. Nei seminari che si sono svolti in provincia di Fermo si è registrata la presenza di 80 imprese. Cosa forse ancora più importante, metà di queste imprese, circa 40, hanno compilato la scheda di interesse per procedere alla costituzione dei laboratori. Noi viviamo un momento di particolare difficoltà e allora dobbiamo attivarci e inventarci qualcosa di nuovo, qualcosa che ci permette di esplorare quelle strade e quei percorsi di cui in passato abbiamo fatto a meno. Dico fatto a meno perché queste possibilità c'erano anche prima e allora penso ai mercati internazionali a cui ci dobbiamo rivolgere tutti al di là della dimensione. Sappiamo quando il mercato interno sia in difficoltà e sappiamo anche quando i nostri prodotti, che sono di assoluta qualità ma che hanno anche un contenuto che ha un livello di prezzo, che è destinato a una percentuale abbastanza bassa di fruitori, debba trovare nicchie di mercato dove collocarlo. D'altra parte dicono gli studiosi di economia che nei prossimi anni il mondo crescerà il 17% sul lusso e sui prodotti di qualità. E allora per trovarci posizionati un po' in tutto il globo è ovvio che ci dobbiamo spostare sulle lunghe distanze ed è altrettanto ovvio che la piccola impresa non può andare all'avventura perché se si muove e vende allora i costi vengono recuperati. Se si muove e invece è ancora nella fase esplorativa, nella fase propositiva del proprio prodotto e non vende allora diventa un problema. Se invece questo lavoro viene fatto in maniera collettiva rimanendo le individualità, allora intanto si possono prendere delle figure professionali e sappiamo che quando ci muoviamo nel mondo non è come muoverci con le nostre conoscenze in Italia delle figure professionali sia a livello di comunicazione sia a livello di studio di mercati e altro e in più ecco avendo delle disponibilità, delle risorse che anche le istituzioni mettono a disposizione significa poter esplorare non solo un mercato ma più mercati e quindi arrivare a delle risposte che sono esigenze. Per quanto riguarda anche a livello locale, questo non vale solo a livello di internazionalizzazione ma anche a livello locale noi sappiamo che ormai, proprio ieri sera partecipavo a una riunione del Lance, l'associazione edilizia che raccoglie gli edili e un tema che viene fuori è quello della partecipazione ai bandi di gara dove ovviamente sotto un certo dimensionamento è difficile, non si riesce a svolgere lavori importanti e allora l'associazione, le associazioni temporanee di impresa, le associazioni in rete e quant'altro ci permette di poter partecipare perché altrimenti a volte ci lamentiamo perché non riusciamo a prendere i lavori che vengono realizzati nel pubblico nel nostro territorio ma qualche volta magari non siamo strutturati in modo da poter dare le risposte che anche giuridicamente l'Italia ma l'Europa in particolare ci impone. I laboratori saranno i luoghi della costruzione di progetti propedeutici all'aggregazione delle imprese e alla firma dei contratti di rete. La rete di imprese in un contesto economico come quello di oggi è fondamentale soprattutto in un territorio composto da piccole ma soprattutto micro imprese come le nostre che non riescono più a sostenere i costi di gestione e questo è il minimo. Soprattutto i costi di investimento proprio per questo nel territorio di ferma è fondamentale la cultura della rete di imprese e noi abbiamo ora raccolto queste manifestazioni di interesse è un primo step che risulta fondamentale ma non abbiamo finito il progetto perché le imprese hanno manifestato l'interesse e adesso sta a noi dividerli per settore perché il cuore dell'iniziativa è appunto che queste imprese divise per settore si devono mettere insieme a tenere un progetto che sta appunto nel fare un investimento comune, un investimento che può essere nel settore del marketing, un investimento che può essere nel settore dell'innovazione tecnologica, un investimento che può essere nella presenza sul web, un investimento che da sole queste imprese non avrebbero potuto fare. La CNA dà e la Camera di Commercio soprattutto grazie appunto al sostegno economico perché altrimenti l'associazione insieme alle altre con cui abbiamo condiviso questo progetto, la CNA sta appunto inculcando nell'imprenditore la responsabilità e l'intraprendenza e metterà a disposizione uno sportello reti gratuito per tutto l'anno del 2015 dove ci sarà una figura che farà da timoniere. Poi una volta raggiunto un primo risultato è possibile raggiungerne altri se e solo se loro sono protagonisti e intraprendenti. Nei sette seminari che si sono svolti nel territorio di Fermo si è verificato il polso della situazione, purtroppo è emersa una certa criticità ed un pessimismo diffuso sul futuro delle stesse aziende, per questo la rete d'impresa diventa ancora più importante. Abbiamo concluso il progetto che è la prima parte che prevede attività di animazione sul territorio, abbiamo avuto una discreta partecipazione, circa 80 imprese che hanno partecipato a questi seminari, ma l'aspetto diciamo così più importante è che 40 di queste imprese hanno compilato una scheda per proseguire l'attività, perché il punto principale è quello di arrivare a mettere insieme delle imprese, a creare un'aggregazione e a firmare i contratti di rete e questo si può fare attraverso i laboratori che noi adesso costituiremo con queste 40 imprese divise secondo i settori merceologici per poter appunto costruire queste imprese. 40 imprese in tutta la regione Marche? No, 40 imprese che vogliono proseguire soltanto dalla provincia di Fermo. Gli elementi che sono alla base dell'aggregazione e che dovrebbero sospingere gli accordi di rete sono innovazione di processo e di prodotto, internazionalizzazione, marketing, commercializzazione, organizzazione. Le aggregazioni possono avere obiettivi limitati in quanto è fondamentale anzitutto lo scambio delle idee tra imprenditori per fare sinergia. Il nostro territorio come altri, tanti altri territori italiani storicamente ha sviluppato delle forme di aggregazione. I nostri distretti sono delle reti diffuse territorialmente e quindi c'è una tradizione dal punto di vista dell'attività dell'impresa nel collaborare, nello sviluppare delle collaborazioni. Il modello della rete di impresa non è una contrapposizione rispetto al modello distrettuale, al modello consortile. semplicemente la rete di impresa va a superare quelli che oggi possono essere considerati i limiti di questi modelli già esistenti e cioè punta a aggregare le imprese per far fare alle imprese cose che individualmente non potrebbero mai fare. Ai seminari hanno partecipato diversi studi commerciali con i quali è stato avviato un primo approccio per verificare la possibilità di sviluppare le tematiche delle reti tra imprese. Alcuni risultati si sono già raggiunti. È stata costituita già ad esempio una rete tra imprese del settore calzaturiero Moda Art a Porto Sant'Elpidio ed è in fase avanzata la costituzione di una rete nel settore delle costruzioni e dell'impiantistica. Il ruolo dell'università si concretizza in quella che si chiama la terza missione dell'università che oltre a didattica e ricerca ha il ruolo di trasferimento tecnologico quindi di interazione con il territorio. Quindi tutte le competenze che sono dell'università vengono trasferite e quindi si fa un'azione di formazione anche di consulenza verso le aziende. In questo scenario è risultato assolutamente normale collaborare con la Camera di Commercio e con CNA per stimolare le aziende locali, piccole, medie aziende ma soprattutto quelle piccole a fare rete di impresa, cioè a mettersi insieme, a condividere risorse nelle quali l'università può agire sia come elemento che fa capire come le reti di impresa possono avvenire e sia esso stesso come un elemento di questa rete per quanto riguarda alcune attività, per esempio attività di ricerca, attività di formazione che possono essere condivise da più aziende che non avrebbero possibilità di accedere separatamente al rapporto con l'università ma lo potrebbero fare invece in maniera sinergica, cioè tutti insieme.